Si può essere Siridio lì? Così però, guarda! Così è la tua roba Che buono, lasciami stare Marco, vai a portare Cattellini No, Cattellini mi porta C'ha lo sponsor Quattro pappini ha perso 4 a 2 Brasile è una squadrita è una squadrita il Brasile, si gioa facile Ralentiamo un po' perché si va un po' troppo veloce Siamo a San Casciano Provincia di Cascina Questi sono Questi sono chiese, quelli non sono campanili Campanili non ci incasta niente E' bello dritto poi E' strano i campanili di 3 partiti Cogli sempre l'aspetto fallico Esattamente Anche su campanili Via andiamo dai partiamo Ci succano anche quelli dei Rossini Siamo forza Quanto è che non vi correte? Non è possibile Si decorre ora, venite, venite con noi Allora, ciao No, ti faccio il cartellino Allora E' finito E' capito Ma te cosa anche te? Si Ma sei punto sudato? Ma sei punto sudato? E' finito Io ho fatto anche la guerra d'Ampia Quello l'ho fatto anche io Anche io l'ho fatta la guerra d'Ampia Si Ho fatto anche le guerre puniche io E ero E' lui Va lì la moschettiera Dove ho passato l'avanguardistico Ma cambiò il regime Venne la Bombarda Giamarono Lameliano Venite Liberatori Lo vede liberatori E allora la carriera Lo ha fatto L'hai fatta nel giornalaio L'hai fatta nel giornalaio? No Una testa Teso facevi Ben tö Teso facevi Vabbè quelle non ho fatte tante anch'io dopo sette anni andavo già lavorato con il cartaglia dell'Avelle senti là e poi sono stato dopo quattordici anni scritto il libretto mi mette la muta al 23 senti? senti il lavoro via vai ti saluto sennò qui mi fai finire la orsa e c'è sempre agli anni quaranta buona ciao andava a me bello il Bernabinio è sempre stato bello mi spieghi è meglio è migliorato è migliorato io un di là da lei la ossa così la prossima volta se lo riordano il cartellino giusto? hai visto? mi dai ragione bisogna ritornare i vecchi sistemi quando mi scordavo qualcosa mi dava le randellate in testa capito? mi arriva se lo scordano trovano già cartellino sostituto perché sennò gli danno la rossa mi va a casa riprenderlo cosa faceva tu babbo quando ti scordavo le rose? l'andellate in testa ti dava anche tu babbo no ma io voglio un'autocertificazione come mi ha fatto qualcuno e cosa dice quest'autocertificazione? ho testimoni e tanti mi portano a testimonianza delle tue riprese dice guarda che c'erano allora io mi faccio pagare un documento valido ai fini legali giustamente allora d'ora in poi per essere filmati cominci a te dammi 15 euro subito che ti sto filmando dopo mi dai va bene il suo marito è messo male giusto però di molto male però come stato io che è sempre stato messo male da quando l'hai sposata ma cosa c'è? la sospetta borsita la sospetta borsita vedete il passo per il passo del cerdeglio allora va come va e lui grazie il giovane ma lui è più impante eh sì è partito è partito adesso lo firmo eh perché tutti i popoli civili una scritta sul muro ce la mettono sempre è riccardo qui c'è la storia se stasera sei nato te non c'era ancora vado eccoci vado eccoci la montata stanotte vado vado occhio io ti sto filmando eh quindi se te lo tiri fuori io ti ci fossi una giumettino via lo spengo così la può fare via che ho appena operato oh un uomo lo dici ma questa via è merda eh eh signora è quello della straggia diciamo meno male è merda meno male lo scanto non sembra mai merda quella eh sembra allora avevamo 18 anni forse anche meno 17-18 ci giocava tutte e due a torri del lago promesse calcistiche poche sì ma una bella sega eppure si andava con passione determinazione e ci siamo anche divertiti non saremo stati grandi giocatori almeno io parlo per te e un parlo per me ma comunque ma comunque ci abbiamo un bel passato assieme e oggi qui non parliamo di quanti anni fa e oggi e ho l'età e quella che è però si correva quei tempi si corre anche oggi quando vedo nino io penso sempre grande ciao ciao che vedi si può corre sempre che vedi